L'altro punto su cui stiamo lavorando con le autorità nazionali d'impresa è quello di assicurare che ci sia una sufficiente capacità produttiva e che venga anche aumentata. Stiamo valutando varie opzioni produttive e eventuali modifiche agli impianti per aumentarne la capacità produttiva. Sicuramente saprete dei problemi di fornitura emersi a livello europeo a causa di alcune questioni produttive. Stiamo lavorando con le imprese su questo e speriamo davvero che tutto ciò sia risolto entro brevissimi tempi. E' anche importante ricordare che siamo in presenza di tutta una serie di mutazioni, di varianti del virus che vanno monitorate attentamente e va monitorata anche la performance dei vaccini nel tempo per vedere in che misura o come si comportano con le mutazioni. I dati attualmente disponibili suggeriscono che sia i vaccini RNA entrambi abbiano un alto livello di protezione anche nei riguardi delle nuove varianti ma abbiamo bisogno ancora di dati e analisi aggiuntive su questo.